Chiaro e tondo è un modo di fare, chiaro e tondo è un modo di pensare, chiaro e tondo perché non siamo soli in fondo al mare. Due mostri del giornalismo del calibro di Geppi La Piana e di Leonardo Franceschi danno luogo a questo, Cassano, è stato operato, l'operazione è andata benissimo e il professore con il quale ho personalmente parlato mi ha rassicurato che i problemi erano cardiaci, sono stati risolti e che Cassano nella testa non ci ha mai avuto niente, questo ne ne diamo atto per fortuna, qualcosa si era capito. Invece te, ma ora ogni notizia c'è il commento delle maestranze, allora bloccate le nozze di un novantenne che Poromo era in una casa di riposo, ha detto io voglio stare con questa donna, non per sesso ma per avere una persona che mi fa compagnia, niente, gli hanno negato, l'hanno lasciato all'ospizio e gli hanno negato, tra l'altro erano state fatte anche le pubblicazioni, alla farmacia comunale aveva la lista di nozze con il liquido per la dentiera, con le pasticche per la memoria, andiamo avanti. Atene torna alla dracma e noi torneremo al sesterzo, questa è la minaccia di Berlusconi di pochi minuti fa in diretta, tra l'altro quando Tremonti gli ha detto e se il popolo chiede se sterzi, gli ha detto mi porta la sega, c'ho l'autista, ci penserà lui a sterzare. Capito la battuta? Allora, ci sono dei consigli sulla stampa per non sbagliare quando si va ai concorsi o quando si ha un colloquio per essere assunti. Questi consigli sono per le donne, trucco leggero, orecchini senza pendente, taier, gonna, pantalone, pullover, colori accesi e intonati, borsa o 24 ore, mentre è assolutamente proibito, trucco vistoso, scollature esagerate, vestiti attillati, minigonna, calzarete, e reggiseni o reggicalze in vista? Cioè queste non lavoreranno mai alla fine invece, secondo me, cioè una così, ma non va a lavorare, neanche io la prendo. Allora, vanno a riempirsi le taniche tra le lapidi, è accaduto nei giorni dei morti, sembra che la gente vada nelle rubinetti dei cimiteri per risparmiare l'acqua a casa e questo è niente, io credo che se la crisi perdurerà, arriveremo con i morti freschi a fare il costoliccio alla brace direttamente con legname delle bare. Andiamo avanti con il nostro... Questa è una terribile... Ah! Pensate, nella Terra siamo 7 miliardi, è nato il bambino, la 7 miliardesima bambina, e se pensate che a me 6 miliardi e 9 mi stanno sui coglioni, già secondo me sono anche troppi. Ma queste parolacce! Mi ridico le parolacce? Eh, era una parola... Non si può dire 7 miliardi? No! Va bene, ok. Oh, mentre Bersani ha le idee di uno di 80 anni, Bersani dice che Renzi ha le idee degli anni 80, capite questo gioco di parole per dire che a me... Allora, ancora non è finito. A me piace Renzi, ci sono un sacco delle notizie, non le volete più? Vai, voliti. Allora, la recessione fa l'uomo lato, record di furti nei supermarket, specialmente di parmigiano, che è una delle cose più care, d'altronde anch'io l'altro giorno l'ho preso, c'era scritto parmigiano da grattare, cazzo da dietro, io lo prendo, porto a me. Imprenditore nudo sul giornale, le manche avare, SOS al governo e noi siamo già avanti più dell'imprenditore, siamo giacchini pronti per l'investimento da dietro. Ecco fatto. Ci sono delle nuove protesi per il seno che sono arrivate dagli Stati Uniti e sono praticamente regolabili. Ecco, andate dal gommista, dice mi fa la poccia a destra 2 e 2, quella a sinistra 2 e 4, perché se trovo il bagnato tiro un po' meglio. In curva, a proposito di tette bellissime, quelle di Pippa Middleton, che tra l'altro partecipa alla scrittura di un galateo. Ora una che si chiama Pippa, come fa a fare un galateo? Già nel nome… Cambia argomento! Cambia argomento! Dunque, Draghi, debutto ad alta tensione, ha abbassato di 0,25 i tassi, poi praticamente bruciando gli interessi dei tassi, poi ha bruciato le cove delle volpi e ha tirato anche a due starne quattro lepri, ma soprattutto ha brustolito i polli come noi. Perché a me mi sembra che invertendo l'ordine di chi paga, le bollette arrivano sempre a noi. Pensate che Mario Draghi prende 757 mila Euro all'anno, prendeva quando era in Banca d'Italia, contro Jean-Claude Trisce, che era capo della Banca Europea, che prendeva 360 mila Euro, quindi la metà. Ma come mai noi in Italia si deve prendere sempre questi funzionari che prendono il doppio? Allora io ho fatto, io e Gepi, abbiamo fatto una canzoncina, se ti resta ancora un dubbio, è più semplice provare, qui da noi si prende il doppio e di poveri a cagar! Bellissima, eh? Complimenti! Raffinata! Io potrei anche interromperla qui… Non lo so, è ancora che gli hai! È capito! Io faccio appello ai diritti umani e chiudo con una notizia del novembre di tanti anni fa, del 1957, io ancora ovviamente non ero nato, quando l'Unione Sovietica lanciò in orbita lo Sputnik 2 con la cagnetta laica facendo il primo atto di terrorismo contro gli animali. Ho detto, ho parlato dello Sputnik perché chiudo con lo Sputnik al mio collaboratore Fido Luca Occhini. Dietro la telecamera una grande narda, come si dice in Toscana, che si chiama Rita Stanganini, che ora si sta trasferendo in una villa in campagna nella quale faremo sesso, vi manderò dei film. Saluto gli amici di Roma, detto chiaro e tondo il TV, anche la redazione, anche se ci hanno dato delle sirche, ma noi abbiamo mandato i soldi, insomma, basta così. Ci sentiamo la prossima settimana da un grande direttore, Leonardo Francesco. Un grasso direttore! Allora, da un altro direttore, Gepi. S'avete anche con Gepi? No! Perché con lui no? Perché sei te! Parapa Ponzi, 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 siamo due stronzi, te direttore!